Sentite qua Alexander Langer. In una società dove tutto è diventato merce, occorre la riabilitazione del gratuito, di ciò che si può usare ma non comprare. Langer aveva capito molto bene che le nostre montagne hanno un grande valore ma non dovrebbero essere messe in vendita. Oggi più che mai si sente la mancanza di voci come la sua, così il 22 febbraio, l'anniversario della sua nascita, l'altra montagna, gli dedica un'intera giornata con articoli, approfondimenti, ricordi. Langer è una delle figure di riferimento dell'altra montagna e nel corso di quest'anno il nostro sito dedicherà altre giornate monografiche a voci come la sua, voci che continuano a orientare la nostra visione delle cose.